C'è una cosa che devo dirle. La guardavo giocare e... Qualcosa è cambiato in me. Mi sento... diversa. Mi sento... come se fossi viva. Devo andare via da qui e... e scoprire chi sono. Significa che non ci vedremo più, non la guarderò più mentre gioca. Ma sarò libera. Accetta di lasciarmi andare. Non scorderò mai ciò che ha fatto per me. La ringrazio.